E' il nostro giorno Bentrovati, grazie di averci scelto ancora in questo martedì 22 ottobre Oggi protagonista, ospite, un amico Pierluigi Mattarelli, comunemente chiamato Gigi Grazie Gigi di aver accettato l'invito Allora, prima di tutto parliamo di te Io ne so già un po' di te, però la gente quando vede che c'è un uomo nell'arena vuole il sangue Allora, dove sei nato Gigi? Romagnolo tu? Romagnolo puro sangue Mattarelli ha un cognome importante a Forlì, perché richiama un onorevole Gino Mattarelli Siamo di quella famiglia lì? Siamo di quella famiglia, Gino era fratello di mio padre Io sono nato a Cesena 50 anni fa a Tondi Tondi, quindi nostre d'oro con la vita, auguri ovviamente E mio padre Da che famiglia? Ecco, la mia famiglia, mio padre ha fatto per una vita il dipendente comunale Mia mamma ha fatto anche lei per una vita l'insegnante di scuola elementare Quindi io sono cresciuto in una famiglia Sei figlio unico Gigi Ho due sorelle, leggermente più giovani di me E quindi le hai educate, le hai badate? Ma io credo che siano state forse loro ad aiutarmi Perché ho fatto anche un po' lo scavezza collo da ragazzo Ma cosa hai combinato? Non ho combinato cose gravissime Però ho poca voglia di studiare come tutti o no? Ho media voglia di studiare Ho fatto il liceo classico Morgagni Capì, dici poco? Beh, è stata una bella esperienza L'impostazione si vede dal liceo classico Poi dopo il liceo con la totalità dei miei compagni di scuola che abbracciavano ovviamente l'università Io invece sono stato attirato un po' dal mondo del sociale Per cui ho fatto il servizio civile, mi sono un po' impegnato nel volontariato E ho fatto una bella esperienza che mi è servita per tutta la mia vita Io credo che tu sia stato uno dei primi in Romagna a fare le case famiglia Siamo stati uno dei primi Se non ricordo male Sì, in collegamento con Don Oreste Benzi Era all'inizio degli anni Ottanta Quindi sono state esperienze che mi hanno fatto crescere molto E sono state anche un po' lo stimolo per Nel mio piccolo, nell'impostare un po' la vita Ti sei sposato ovviamente Sì, mi sono sposato con Patrizia Siamo sposati da 25 anni Abbiamo tre figli 50 anni, 25 anni Ma è un anno che ti va via un sacco di soldi A fare le feste di ricorrenza, di anniversario Abbiamo tre figli Figli Giacomo di 24 anni Giorgia di 21 E Pietro di 18 Sono tutti e tre molto attivi nei loro mondi Giacomo è un universitario Che sta studiando scienze politiche Molto impegnato anche lui nel sociale Giorgia è una simpaticissima ragazzina down Che è impegnata anche lei In una cooperativa sociale In un laboratorio socio-occupazionale Una cooperativa che si chiama Solidarietà Intrapresa Una bella cooperativa Una bella realtà forlivese E Pietro sta facendo l'ultimo anno di liceo scientifico Ma io dico sempre che il liceo scientifico per lui è un hobby Perché la sua vera occupazione è ballare, cantare, recitare Che io ho visto a Cervia affascinava il pubblico del grande Hotel Dante Bene Allora però ti voglio chiedere anche così Cosa fai per campare? Perché il sociale dà motivazioni di vita Per alcuni è anche un impegno Però tu sei un responsabile di un'agenzia di comunicazione Prima di tutto Certo, io mi occupo di comunicazione Praticamente sempre più o meno da 25-26 anni È l'unico, chiamiamolo mestiere, che ho sempre fatto Ho un'agenzia medio piccola Che si chiama Graficamente Noi ci occupiamo di comunicazione per le aziende Quindi siamo il terminale di tutto ciò che è comunicazione per le aziende Chiaramente dentro questo, diciamo, comparto Ci sono tanti progetti che nascono Progetti di carattere grafico, cataloghi Ma progetti anche Questi li vediamo Hai delle passioni extra? Il tuo passatempo, per esempio? La mia grande passione extra lavorativa è la bicicletta Anche te, un romagnolo doc Non si direbbe, diciamo, posso dire dall'alto dei miei 103 kg Perché non ho proprio le physique per fare il ciclista Ma è una passione che ho dentro Però hai scritto anche un libretto per i ciclisti Ho scritto anche un libretto, sì Hai mescolato la tua passione con il tuo lavoro Esattamente, ho scritto questo libretto con un preciso intento Prima di tutto di far conoscere a chi magari non conosce alcuni percorso Per i percorsi che faccio il sabato e la domenica sulle nostre colline Ne parliamo, ne parliamo Io, la Patrizia condivide anche questa passione O lei viene in macchina? No, lei decisamente viene in macchina I tuoi figli invece? Le l'hai passata anche loro la bicicletta? O sono rimasti alla politica, all'impegno, alla comunicazione in genere? È una passione che ho solo io Chiudiamo qui, per Gigi, Pierluigi, Mattarelli, la presentazione Bene, adesso abbiamo Gigi e Mattarelli La domanda di rito che faccio a tutti Quelli che sono romagnoli Te il dialetto, come te la cavi col dialetto Gigi? Lo parli, lo capisci Fai qualche intercalare Tu vieni un colpo Me la cavicchio Me la cavicchio nel senso che Lo capisco bene Ogni tanto mi avventuro anche in qualche battuta A volte con poca fortuna Però non posso dire di abbracciarlo come si deve Come fai tu, per esempio Ma io ho un'altra tradizione Io non avevo la mamma insegnante Per esempio Che magari l'italiano ci teneva Io avevo la mia mamma, la poverata, che faceva la casalinga Però sul dialetto mi lanci una piccola provocazione Per cui penso che sia uno di quegli aspetti di cultura popolare Che non possiamo perdere assolutamente Per cui se la mia generazione è un po' messa nella mia condizione di conoscenza di questo patrimonio Figuriamoci i nostri figli Per cui bisognerebbe sicuramente fare qualcosa La Romagna siamo noi Ecco qua, bene, martedì 22 ottobre Pierluigi, detto Gigi Mattarelli Un uomo, tra l'altro è venuto vestito bene proprio da agenzia di comunicazione Perché il primo messaggio lo dà l'abbigliamento L'esterno Dov'è che tu hai imparato a fare questo mestiere di comunicazione, Gigi? Beh è stata un po' una professionalizzazione nata un po' sul campo Io ancora quando avevo 22-23 anni ho frequentato un corso di formazione professionale Finanziato dalla comunità europea, un fondo sociale europeo Uno di quei bei corsoni che duravano nove mesi In cui l'obiettivo finale dell'interformativo era la formazione di una cooperativa giovanile Che si occupasse del settore su cui si era formata Quel corso lo facemmo su comunicazione e pubblicità E quindi dopo quell'attività formativa Un gruppo di... Colpo di fulmine sulla via di Damasco Sì, un gruppo di ragazzi giovani con poca esperienza Cominciarono a fare i primi passi Cominciammo a fare i primi passi nel settore della comunicazione Cercando di specializzarsi nell'ambito della grafica pubblicitaria Nell'ambito dei cataloghi Nell'ambito della comunicazione anche... La gestione ovviamente dell'immagine Chi sono i vostri clienti? In poche parole I nostri clienti potenzialmente possono essere tutti Potrebbe essere anche Sgabanazze Potrebbe essere anche Sgabanazze Se vuole lanciarsi la sua immagine Assolutamente La nostra configurazione, noi siamo una piccola agenzia Una piccola agenzia di cinque persone Fra l'altro molto ben collaudate Perché nella nostra agenzia non c'è il turnover Noi siamo insieme da tantissimi anni Abbiamo professionalità che anche si integrano molto bene fra di loro Dicevamo i clienti Il nostro cliente tipo è la piccola e media azienda locale Quindi le aziende del nostro territorio Abbiamo fatto esperienze anche con enti pubblici Come il comune di Forlì La provincia, la regione, l'azienda USL La fondazione Cassa dei Risparmi Curiamo le banche Curiamo la comunicazione per esempio di una banca locale molto importante Che è la banca di Forlì Insomma ecco questo è un po' il tessuto in cui ci muoviamo Ma oggi la pubblicità E' questo che io vorrei da un uomo esperto da 25 anni di comunicazione La pubblicità paga ancora E' il momento di farla quando c'è la crisi Cosa ne pensi tu? Questo è un annoso problema Perché spesso si dice Ed è giusto a livello teorico Che in momenti di difficoltà Bisognerebbe investire in comunicazione Questo è giusto Però in questo momento di crisi In cui le aziende faticano a procedere Faticano a mantenere i posti di lavoro A riscuotere A mantenere i posti di lavoro per i propri dipendenti Purtroppo la comunicazione viene vista come Non dico qualcosa di superfluo Ma sicuramente qualcosa che ci va vicino Per cui noi stiamo lavorando Su quelle operazioni di comunicazione Su cui non si può fare meno Per cui faccio un esempio pratico Un'azienda che vende Ancora col sistema tradizionale Del catalogo ai clienti E prende gli ordini per il telefono Non può non fare il catalogo Perché significherebbe Non avere uno strumento principale Per la propria attività commerciale Noi facciamo il catalogo Cosa stanno venendo a mancare? Stanno venendo a mancare Tutte quelle operazioni di comunicazione Istituzionali Di mantenimento della visibilità Del marchio Su cui le aziende investivano in passato E adesso hanno stretto i cordoni della borsa Ma creare un messaggio pubblicitario Ci vuole fantasia, professionalità Lo fa più il logo, il disegno La parola come comunicazione O è un mix di queste robe? Beh la creazione del messaggio pubblicitario È diciamo L'unione di più professionalità Noi siamo come dicevo Un'azienda medio piccola Quindi cerchiamo di avere Di riunire anche in un'unica persona Queste professionalità Però è lo studio del copy Quindi del testo pubblicitario Quello che si chiama lo slogan Noi in pubblicità lo chiamiamo headline Unito ad una gradevole scatola grafica Chiamiamola così Noi diciamo Affrontiamo questo tipo di progetto Che è poi l'ABC del nostro lavoro Con un lavoro di un creativo Che abbiamo interno alla nostra agenzia Che possiamo anche dire il nome Si chiama Marco Vignazia È un bravo creativo È anche un creativo poliedrico Perché al di là del lavoro Dipinge, fotografa in maniera creativa Quindi ha interessi culturali Anche fuori dal lavoro Che aumentano anche la sua creatività Sul lavoro Quindi questo processo creativo È il frutto del lavoro Del nostro creativo E sostanzialmente dell'interazione Che fa con me Che ho diciamo Forse un pochino più di visione Sull'obiettivo che ha l'azienda Però io dico sempre Se dovessi creare io personalmente Un messaggio pubblicitario Mi darei un voto Che va Fa il 6,5 Il 7,5 Perché? Perché ho una buona capacità Di fotografare l'esigenza dell'azienda E capire in che direzione andare Il creativo cosa ci dà? Ci dà quel quid in più Quell'estro Che non tutti hanno Per fare in modo Che quel messaggio Che deve andare in quella direzione Abbia quella PIL superiore Che serve alla pubblicità Diciamo che voi date anche Consigli agli imprenditori Beh uno dice Io vorrei fare della pubblicità Però Seglie magari I metodi O gli strumenti sbagliati Voi sapete invece Che quel prodotto Quel tipo di azienda Ha bisogno di Carta Televisione Volantinaggio O messaggio pubblicitario Un pochino più raffinato Certo Questa si chiama Pianificazione E significa Nel momento in cui Si fa una bella creatività Un bello studio Di uno spot Di una pagina pubblicitaria Fare un minimo di analisi Su qual è il posizionamento Dell'azienda Qual è il target di interesse Quindi a chi dobbiamo parlare E poi fare le analisi Sul territorio Mettiamo che questa campagna Sia sul territorio forlivese Per esempio Capire su questo territorio Quali sono i mezzi Che parlano più direttamente Al target di interesse Dell'azienda Quindi non è che La televisione va meglio Dei giornali La radio va meglio Delle affissioni Vanno tutte bene E tutte male Sono da valutare Nel contesto del progetto Bene Pierluigi Mattarelli Gigi Il mio amico editore Agenzia di comunicazione Editore perché? Perché tu hai fatto anche Dei libri Hai curato dei libri Per chi li ha voluti scrivere Alcuni sei autore Tu E mi parlavi Di quello della bicicletta Io ti ho interrotto Però adesso Allora Perché adesso È il momento Di parlarne Questa passione Dei romagnoli Certo Certo Come lo sai La bicicletta È motor È cletraropica Non si può dire Però abbiamo capito Però abbiamo capito tutti Comunque la bicicletta Come ben sai È qualcosa Che è dentro Il sangue dei romagnoli E ce l'hai da corsa Ce l'ho da corsa Ce l'ho anche in mountain bike Ma sono più Per la bicicletta da corsa E niente Questa è una passione Che io mi porto dietro Fin da quando ero Era un ragazzino E si facevano Le nostre colline Così Crescendo La passione Si è un po' Strutturata E quindi Nel tempo libero Che purtroppo è sempre poco Ma tu vai meglio in discesa O in salita In discesa Con il mio peso Li schianto tutti In salita Sono un pochino più Appesantito Però insomma Cerco di cavarmi Allora Perché hai pensato Questo libro Ma questo libro Io l'ho pensato Facciamolo vedere Dovrebbe essere insieme Ad altre cose Ecco Forlì ed intorno E quello piccolino Sì è stato pensato È stato pensato Innanzitutto Con un formato Così ridotto Perché dovrebbe essere Proprio una guida Che il ciclo amatore Si può infilare Nella tasca di dietro Della maglietta Da bicicletta Per poterlo consultare Anche durante il percorso È stato diviso In tre sezioni Percorsi facili Percorsi medi Percorsi impegnativi E nonostante Diciamo Questa divisione Anche i percorsi facili Che sono Alcune biciclettate Nella piana Fra Forlì e Ravenna Hanno scorci Interessantissimi Nella nostra campagna E percorrendoli Io ho scoperto Delle bellezze Di cui francamente Ignoravo l'esistenza Il caso per esempio Di un bellissimo palazzo A Castiglione di Ravenna O il fatto di aver Di essere entrato Per la prima volta Nella pieve Di San Pietro in Trento Tutti cose che sono Patrimoni culturali Importanti Che purtroppo Sono un po' dimenticati Ecco io credo Che la bicicletta Sia il mezzo giusto Per fare un po' di sport Un po' di movimento Però anche per riscoprire Queste bellezze Poi chiaramente Salendo verso Abbandonando la piana Pianura Salendo verso L'Appennino Ci sono scenari Bellissimi Anche perché Se vai in bicicletta Vuol dire che non piove E il giorno È particolarmente favorevole Assolutamente Assolutamente Quanti percorsi Hai individuato? Ho individuato 20 percorsi 20 Sono 7 7 e 6 Più o meno divisi Per difficoltà Per difficoltà E diciamo Come stavo dicendo C'è una scoperta Anche noi abbiamo Sicuramente tutti Che dividono Perché non ti ho detto Prima che a livello Di lavoro La nostra agenzia Si è un po' Per caso Un po' Anche per sensibilità Specializzata Sulla comunicazione sociale Quindi abbiamo fatto Parecchi progetti Di comunicazione Anche raccolta fondi Per diverse associazioni Cooperative sociale Di volontariato O di solidarietà sociale Di solidarietà Certo Conoscendo un po' Questo mondo Mi sono reso conto Che c'è un buco A livello di comunicazione In sostanza Nel Forlivese Ma anche Nel Cesenate In Romagna in generale C'è una ricchezza Sicuramente superiore Ad altri territori Di esperienze Di generosità E volontariato Ma spesso L'opinione pubblica Conosce poco O in certi casi Non conosce per nulla Queste cose C'è una grande conoscenza All'interno Cioè quelli che fanno le cose Le conoscono Ma spesso danno Un po' Per scontato Il valore etico L'importanza Di quello che fanno Nel tempo libero Per cui Questa rivista Sta Diciamo Con Piccole forze Diciamo così Perché Come ben sai In un progetto Ci vogliono anche Delle risorse Sta cercando Di promuovere Una comunicazione sociale Una conoscenza Verso il territorio Delle tante ricchezze Sociali Che ci sono E che cadenza Ha sta rivista? Per ora Abbiamo una cadenza Trimestrale Quindi abbiamo fatto Tre numeri A fine novembre Uscirà un nuovo numero E in questa rivista Abbiamo dato un taglio Totalmente esperienziale Raccontare delle storie Raccontare delle esperienze E dentro ci sta Ci sta Da Progetti per Anziani Progetti per ragazzi Con disabilità Progetti educativi Rivolti Ai ragazzi Agli adolescenti Ultimamente Mi sono occupato Anche Dello sport Ma non Dello sport Come lo vediamo Alla televisione In cui L'immagine Che Che mettiamo Dentro È quella Di Quattrini A go go E contratti Super Per i calciatori Muscoli Muscoli Calciatori Capricciosi Stadi Con violenza Eccetera Lo sport È da recuperare Sotto l'aspetto Educativo Per questo Siamo andati A intervistare Alcune associazioni Importanti Come il CSI L'UISP Per capire Che tipo Di progetti Possono mettere In campo O hanno già messo In campo Proprio in questa direzione Per valorizzare In maniera Giusta Ideale Lo sport Perché sia un'attività Educativa E non sia finalizzata Solo al risultato La Romagna Siamo noi Bene Ecco qua Pierluigi Gigi Mattarelli Abbiamo parlato Un pochino Della sua vita Un po' di tutto Abbiamo finito Con percorsi Solidali Questa rivista Che lui Nella sua agenzia Graficamente Produce Proprio per Dare voce A quel mondo Del volontariato Dalla solidarietà Che molte volte O ha poca voce O sbaglia voce O non ce l'ha addirittura Da questa Ti viene Da una tua sensibilità Anche tu Sei un volontario No? Ma dov'è che tu Esprimi Il tuo Insomma Il tuo impegno Nel volontariato Diversi Ne hai diversi Sì ne ho diversi Direi che Io appartengo Innanzitutto Al Lions Club Lo vedo dal distintivo Distintivo Certo Qui sono Anche orgoglioso Di portare Il distintivo Sei stato anche Il come si chiama Non il presidente Come si chiama Ho fatto il presidente Del mio club Due anni fa L'anno scorso Ho fatto il presidente Di zona Che è una specie Di coordinamento Dei club Forlivesi e Cesenati Ma al di là Delle cariche Il Lions Club È un'associazione Importante Che ha bisogno Come anche Tutto il volontariato Di cui parlavamo prima Di essere Messa in una giusta misura Perché purtroppo Noi Lions Siamo visti Purtroppo Ripeto Purtroppo Come quelli Che fanno Delle gran cene Delle gran mangiate E si fanno I favori Fra di loro E si fanno I favori Fra di loro Gli amici Voglio dire Questo tipo Di impostazione È superata È superata Lo voglio dire Con forza È superata Perché Prima di tutto Il Lions Non è più Un'associazione Elitaria In cui ci entri Solo se Hai Una posizione Di rilievo Nella città Nel territorio Se sei medico Avvocato Libro professionista Dirigente Nel Lions Noi abbiamo bisogno Di soci Di qualità Che abbiano voglia Di mettere in campo Le proprie capacità Con generosità E gratuità Questo lo può fare Il medico Il libro professionista Ma lo può fare anche L'infermiera E il fornaio O anche un dipendente pubblico O un dipendente Ecco Questa è la prima cosa Un po' da sfatare È chiaro La nostra associazione Si entra per invito Ma noi siamo Ben contenti Di invitare persone Che rispondono A questi requisiti E poi L'oggetto Del nostro Incontrarci È sicuramente Diciamo Legare rapporti Di amicizia Perché se un gruppo Di amici Sta bene insieme Ha ottime relazioni Può dare di più Ma il nostro obiettivo È We serve Noi vogliamo Servire E chi vogliamo Servire Vogliamo servire La comunità locale In cui viviamo Avete fatto Delle belle iniziative Abbiamo fatto Proprio delle belle iniziative In cui ne abbiamo Anche condivise Qualcuna Vogliamo proprio Citarlo Il meeting di nuoto Senza barriere Con l'associazione Incontro senza barriere Abbiamo Da tre anni Facciamo Abbiamo questo appuntamento Annuale Sotto Pasqua Sì Grosso modo Primavera In cui C'è questo bell'incontro Nella piscina comunale Di circa un centinaio Di ragazzi disabili Che si sfidano In varie discipline Del nuoto Ecco Questo è un momento Importante Perché Diamo Prima di tutto Visibilità A questi ragazzi Che fanno già Queste attività Durante l'anno Ma le fanno da soli Senza nessuno Che li guarda Più diamo un segnale Anche alla città Di una integrazione Di creare occasioni Per Perché qui Il tutto si gioca Nel caso Parliamo della disabilità Nell'integrazione Cioè Fare delle belle cose Per persone Con disabilità Va benissimo Ma la sfida Di oggi È quella che queste persone Devono vivere Insieme agli altri Lavorare Divertirsi Tutte le cose Ti chiedo Tu ovviamente Ci hai messo anche La tua professionalità A momenti di volontariato Per esempio Un incontro particolare Con un prete Che ci ha accomunato Un pochino In tanti No? Come me e te Con Donna Medeo Pasini È venuto fuori Il libro Il libro Che tu hai scritto Insieme a Roberto Roberto Marzocchi Marzocchi Sì questo è un Un argomento Che Facciamo vedere Dovrebbe essere Dovrebbe essere Il prete storto C'era una volta Un re C'era una volta Un re Bis re Bisconte binè Che poi sai Come va avanti Questa storiella È un argomento Questo che mi fa Come ben potrai immaginare Un po' palpitare il cuore Perché Donna Medeo è stato Credo sia poco Dire un maestro È stata una persona Che A tanti A tanti di noi Ha cambiato la vita Cioè ha dato Delle prospettive diverse Ci ha fatto capire Il valore Della generosità Il valore Della disponibilità Il valore Del dialogo Con gli altri E la sua vita È stata Una testimonianza Costante Poi lui Era un grande Comunicatore Quindi Io ero affascinato Nel sentirlo parlare Anche se a volte Non capivo Quello che diceva Il fascino Di rimanere a bocca aperta Come di fronte A un'opera d'arte Quando Lui è mancato Poco più di due anni fa Dopo una Veloce malattia Si è pensato Di fare un libro Qui non tanto Per fare un'iniziativa Editoriale Ma perché Questo patrimonio Non andasse perso Questo patrimonio Di esperienza Di vita Di quotidianità Che è stato Don Amedeo Non andasse perso Poi tra l'altro Fra i ragazzi Che con te Hanno condiviso Questo incontro C'è stato Un personaggio Un avvocato Che vogliamo ricordare Vanni Certo Vanni Casadei A cui tu hai dedicato Poi anche un'altra opera Un altro libro Che qui non abbiamo Ma ci vogliamo ricordare Vanni Casadei Anche lui purtroppo Un amico Che non c'è più È stato un fratello Maggiore Anche lui ha vissuto L'entusiasmo Dell'amicizia Di Don Amedeo Di qualche anno Più grande di me Io l'ho sempre Stimato tantissimo Stimato tantissimo Per la sua capacità Di tradurre anche Quegli insegnamenti Che noi abbiamo Così un po' Succhiato Proprio succhiato Fatto nostro In parrocchia Anche trasferirli Nel territorio Sulla società civile Nella professione E Vanni è stato Un testimone di questo Siamo in chiusura Caro Gigi Il tempo vola Poi una cantatina Una poesia Due patacate È il bello della vita Allora io però Ti devo fare una domanda Bisogna che te la facci Perché io ti conosco Anche troppo bene Quindi Il volontariato Che tu hai fatto Che lo hai respirato Fin da giovane Da piccolo Ti ha portato a essere Protagonista In questo mondo E Ti ha portato anche Forse alla tentazione O alla sollecitazione Della politica Intesa come Forse Forma alta Di volontariato E di servizio È così Per te E non è così Per gli altri O dovrebbe essere Così per tutti Cosa ne pensi Di sta roba Io dico com'è per me Perché non mi voglio Sbilanciare A dire com'è per gli altri Perché è pericoloso Perché è pericoloso In questi tempi No io ritengo Che l'impegno Nella politica Deva essere Esattamente Quello Che ci mette Nel volontariato La gratuità Con cui una persona Va in un ricovero A dare da mangiare Un anziano O portare a fare Una passeggiata Un ragazzo Una persona Deve essere Lo stesso stile Che si mette Nell'impegno politico L'impegno politico È un servizio Che invece che fare A un'unica persona O a un gruppo di persone Si fa Alla tua città Al tuo territorio Questa è stata un po' La motivazione Che mi ha Così indotto Ad accogliere L'invito Di alcuni amici Quando è nata Scelta civica Perché ho visto In questa Nuova forma politica Un qualcosa Che era vicino A questo concetto Che ho appena Appena espresso Certo che dire queste cose Oggi Oggi Dopo quello che è successo Nei giorni scorsi Forse Fa un po' Sorridere Ma anche perché Come si fa a stare in politica E litigare così di brutto Cioè È dura Cioè Per chi avvive Certi valori Di Di Convivenza Di dialogo Di attenzione Agli altri Cioè Io ho sempre visto Che fare politica È dura È dura Perché ci vuole una sensibilità E una capacità Non comune Certo Come andrà a finire? Si rimetteranno insieme ancora? Si ritornerà? Viene Arriva fuori E se uno Rientrano Quelli che c'erano da sempre? Difficile dire Però Obiettivamente Nel caso di Scelta Civica Pensare Un futuro di Scelta Civica Senza Mario Monti Che è stato La persona Per cui Questo Questo sogno politico Si è pensato Di mettere in piedi Credo sia Un po' Un po' Complicato Adesso chiaramente Noi ci muoviamo Sull'ambito locale Quindi abbiamo Problematiche Attenzioni Totalmente diverse Ma un futuro Di questa formazione politica Credo Possa esserci solo Se il professor Monti Fa un piccolo passo indietro E dice Rimettiamoci intorno a un tavolo Parliamoci E guardiamo avanti Guardiamo specialmente I problemi della gente E facciamo un passo indietro Sui problemi personali Meno presenza personale Più attenzione alla comunità Anche perché La politica del futuro Se non ci sarà Una virata Ma Veramente a 360 gradi Cioè Fortissima Sarà sempre più distante Dalle persone Che non ne possono più E se ne escono Con giudizi Anche un po' Disarticolati Ma comprensibili al 100% Cioè Stufi al 100% Con motivazioni Anche semplici Ma comunque stufi Quindi ci vuole Una credibilità nuova Facce nuove Sì Ma credibilità nuova Soprattutto Soprattutto Bene Grazie Gigi Grazie di questa chiacchierata Soprattutto Grazie a tutti